Un incontro per parlare della giustizia, delle riforme che la cambieranno incidendo sulla vita dei cittadini. A Biceglia e nel Norbarese l'Associazione Italia Nostra, impegnata da sempre nella tutela di paesaggio e ambiente, ha voluto parlare di giustizia con chi di giustizia ha vissuto. Pier Camillo Davigo, ex magistrato e protagonista di Mani Pulite, l'inchiesta della Procura di Milano che ha segnato la storia italiana e provocato un terremoto politico mettendo fine alla cosiddetta Prima Repubblica e aprendo la strada al bipolarismo. Il governo in carica, guidato da Giorgia Meloni, sta cancellando reati e ridimensionando il potere giudiziario. Lei pensa, come il ministro Nordio, che il potere dei magistrati è immenso? La cosa più opportuna che si può dire è che Nordio non sa di che cosa parla, sembra sia vissuto su un altro pianeta. Se c'è qualcosa che non funziona in Italia è la repressione penale, tant'è vero che tutti fanno come gli pare in questo paese. L'abolizione dell'abuso d'ufficio farà risalire l'Italia nella classifica internazionale? La farà scendere. Il testo dell'abuso in atto d'ufficio attualmente vigente è esattamente uguale alla formula prevista dalla Convenzione di Merida delle Nazioni Unite, che è stata sottoscritta e ratificata dall'Italia così come da quasi tutti gli stati del mondo. Quindi dovrebbero spiegare perché solo in Italia non va bene. Convinto che le intercettazioni telefoniche e ambientali servano, per Davico è importante rispettare il ruolo della stampa che in un sistema democratico diventa garanzia della sovranità popolare. Le modifiche previste alle norme vigenti avranno conseguenze anche sul nostro lavoro di tutela dell'ambiente, spiega Pina Cutolo, consigliere nazionale d'Italia Nostra, che del disegno di legge contro i cosiddetti ecovandali ha un'idea ben precisa. È chiaro che l'ecomandalismo è qualcosa da assolutamente sanzionare, reprimere, sia pure comprendendo da cosa sono animati, qual è la motivazione di fondo che spinge questi ragazzi a deturpare monumenti, luoghi pubblici che non dovrebbero essere neanche sfiorati. D'altra parte però non si può devastare il territorio e il paesaggio con le rinnovabili selvagge perché devono produrre energia e quindi perdere quella che è la nostra prima risorsa, che è il paesaggio italiano.